Lo Sportil Volley, vittoria di Civitanova in trasferta a Piacenza nell'ultimo turno dei play-off quinto posto, 3-1 il risultato a favore dei marchigiani che concludono così il girone al terzo posto. In semifinale lunedì 22 aprile Civitanova tornerà ad affrontare proprio Piacenza, la vittoria nei play-off vale l'accesso alla Challenge Cup, terza coppa continentale e in serie A2 vittoria anche per la Juasa Grotta Zolina che nella semifinale promozione in gara 3 batterà Venn al tie-break, andrà a giocarsi contro Siena all'accesso in Superlega domani sera gara 1 nelle Marche.